La situazione nel carcere di Campobasso non è delle migliori, ma in fondo rispecchia la difficile realtà italiana di cui nessuno vuole occuparsi. A dirlo è il segretario generale del SAP, Aldo Di Giacomo, dopo l'ultimo incredibile episodio che si è verificato nell'istituto di pena di Via Cavour. Un detenuto è stato sorpreso dai carabinieri mentre chiacchierava tranquillamente al telefonino. Una vicenda così incredibile da sembrare una barzelletta, ma che invece è la spia di qualcosa di ben più allarmante e pericoloso. Ci sono detenuti che riescono a mantenere i contatti con l'esterno e sono in grado eventualmente di dare disposizioni e oggetti che non possono entrare in carcere e che invece riescono a oltrepassare i controlli. Ma non è l'unico ritrovamento di questi giorni perché sono stati ritrovati sul muro di cinta, nell'intercinta, due telefonini che sono stati lanciati da fuori in un pacco. Beh, questo evidentemente la dice lunga, se si considera anche che due giorni fa un detenuto appena arrivato da Frosino non ha bruciato un ufficio. Cioè la situazione è veramente molto delicata e noi in realtà lo diciamo da tempo. Ma il carcere di Campobasso è diventato ormai l'emblema di quello che è la situazione delle carceri italiane, che è essenzialmente basato sul disinteresse totale del mondo della politica, ma anche dell'amministrazione penitenziaria. Avevamo introdotto un emendamento al decreto sicurezza bis che prevedeva la costituzione del reato di introduzione di telefonino nel carcere, che oggi è un illecito amministrativo e soprattutto chi picchiava i poliziotti non aveva più la possibilità di accedere alle misure premiali. È stato bocciato. Questo ci dice evidentemente che il mondo della politica è veramente lontano dai problemi della sicurezza e soprattutto a come risorverle in modo veramente concreto. Ovviamente la direzione del carcere ha preso immediati provvedimenti. Una sezione dedicata a chi non ha un atteggiamento e non rispetta il patto che ha stipulato con lo Stato, di comportarti bene, starà in una sezione chiusa. Il fatto che questi detenuti sono stati celermente trasferiti e aspetteremo, diamo tempo di lavorare, la tranquillità di questo detenuto che stava sul letto a telefonare, ce la dice lunga su come il senso di impunità. Dopo che uno ha fatto un reato ne continua a commettere altri, mi perdonino, un illecito amministrativo perché uno che porta il telefono in carcere, il familiare non fa un reato penale e il detenuto che chiama non fa un reato penale. Grazie a tutti.